Preside, il settore dei trasporti e della logistica sta soffrendo una vera e propria carenza di figure altamente specializzate. Particolarmente colpito poi è il trasporto marittimo. È un problema anche culturale, per questo le chiedo, cosa si può fare per abbattere certi stereotipi e per avvicinare i giovani a certe posizioni che hanno poi tanto da offrire? Allora, io uso una frase che può sembrare una frase magari forse troppo esagerata, però mi piace essere esagerata in alcune cose. Io dico che bisogna fare innamorare i ragazzi di alcune professioni e quando dico questo mi riferisco soprattutto alle professioni che noi in qualche modo cerchiamo di formare, quindi le professioni del mare, le del trasporto, ma non solo quelle, ma quelle in particolar modo. Come si fa per fare innamorare i ragazzi di questi profili? Si deve fare con l'esempio, si deve fare con il convincimento, non a parole ma con i fatti, si deve fare seguendoli, orientandoli, aiutandoli, facendo vivere le esperienze, perché quando a un ragazzo io racconto guarda tu puoi diventare un bravo macchinista, lui deve capire che cos'è che fa un macchinista, oltre a studiarlo a scuola, deve andare in sala macchine, deve capire cosa fa un direttore di macchine, ecco quindi bisogna dare loro la possibilità di vivere sulla propria persona l'esperienza per capire se effettivamente è quello che vogliono fare oppure se vogliono fare altro, ma senza questo passaggio, senza la parte del vissuto sulla propria persona e la capacità di orientarsi nel mondo delle opportunità, i ragazzi da soli sicuramente non ce la fanno, quindi hanno bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di loro.